Matteo Renzi parla tanto di grande cambiamento, ma la politica che ha fatto da Presidente della provincia è la peggior politica della prima repubblica. Quindi fa parte della casta anche lui? Matteo Renzi ha avuto i peggiori atteggiamenti della casta. Matteo Renzi da Presidente della provincia era uno che andava a pranzo al ristorante con la carta di credito della provincia e in tre anni ha speso comunque 49 mila euro di soldi, di cittadini, di ristoranti. Matteo Renzi è uno... Ma aspetta, ce n'è altre! Mi voglio dare qualche gifo per spiegarvi Matteo Renzi. E' un po' di rappresentanza dell'amministrazione provinciale, che ha diminuito le spese... No, no, fai finire, ma ci sono diverse spese, perché c'è i ristoranti, ci sono altre spese che sono comunque così curiose. Per esempio abbiamo pagato con i soldi dei cittadini una sfilata di Enrico Covere, abbiamo pagato le modelle, 20 mila euro alle modelle, 25 mila euro di tartine per far mangiare chi veniva al catering e di chi andava a vedere la sfilata, per 140 mila euro. Poi, in questi tre anni, così, non so, forse gli piacciono i fiori. Da Fiorai ha speso 10 mila euro e qualcosa in Fiorai, perché gli piacevano i fiori, non lo so come mai. Fra le altre cose che troviamo nel bilancio. Per poi arrivare a fare il conteggio delle iniziative più strampalate, che lui raggruppa tutti gli anni in una rassegna che chiama a Genio Fiorentino, il Genio è lui che con i soldi dei cittadini si fa propaganda, che sono costati per ai cittadini fiorentini in tre anni 7 milioni di euro. E non sono pochi in un periodo di crisi, ma uno che chiede ai parlamentari di ridursi la pensione e poi spende con i soldi dei cittadini 7 milioni di euro per fare una rassegna che serve solo a lui per farsi propaganda. Un dato, e con quest'ultimo numero vorrei spiegare più o meno la politica di Renzi in tema economico. Renzi, il Presidente della provincia, prima di Renzi spendeva mediamente per le spese di rappresentanza personale e per l'ufficio del Presidente della provincia in media l'anno intorno ai 30 mila, 35 mila, qualche anno anche ai 25 mila euro il Presidente precedente. Arriva Renzi dall'ufficio del Presidente della provincia, fra spese personali, la televisione che si è fatta e altre cose, arriva a spendere più di 4 milioni di euro, a differenza del Presidente che spendeva 30 mila. Se sommiamo tutte le spese che partono dal suo ufficio personale del Presidente della provincia. Se questo è il nuovo, se questo è quello che deve arrivare, meglio i vecchini della casa del popolo che prendono le ferie per andare alla festa dell'unità.